Ciao, sono Davide Galanti, ti racconto chi è Centra Netter. Centra è un'azienda del 96. In tutti questi anni ha maturato una grande esperienza nella realizzazione delle applicazioni IRP e tutto ciò che sta attorno all'IRP. La cosa più importante che abbiamo imparato è che la soluzione più importante del prodotto. Dare una soluzione che serve realmente al cliente. Non siamo gente che è ondivaga, che segue le mode, siamo interessati a cose solide, che si adattino al cliente, ecco perché siamo partner dal 2002, partner certificato di ForSolution con l'IRP Target Cross. Target Cross è un IRP che fa tantissimo, quasi tutto. Quello che non fa, quasi sempre si trova già pronto sul mercato, cioè il mondo dei CRM e il mondo degli e-commerce. Target Cross ha un vantaggio grandissimo che si personalizza in un tempo relativamente breve, quindi a costi ridotti, e ha una chicca tecnologica che non ha il costo, il famoso costo del riporto delle personalizzazioni sulla nuova versione di prodotto. Sono mai riuscito a trovare una frase, una parola che condensasse questo concetto, ma chi ha un IRP, chi ha conosciuto il mondo degli IRP, sa benissimo che c'è questo problema qua. Target Cross non ce l'ha, perché è una tecnologia che consente di riportare in maniera quasi automatica ciò che è stato realizzato come personalizzazione sulla nuova versione. Ci siamo specializzati sui plugin, sulle integrazioni, e partendo da Target Cross abbiamo imparato a realizzare questo tipo di integrazioni native, quindi non file transfer, ma integrazioni dirette, e poi ci siamo spinti a farli anche per altre applicazioni IRP. Oggi stiamo realizzando sempre più spesso plugin di integrazione fra IRP che non conosciamo con applicazioni magari web-based che non conosciamo, quindi middleware che consentono di collegare cose eterogenee. Uno dei best seller sono i plugin per l'e-commerce, quindi l'integrazione fra l'IRP e il mondo e-commerce, così come il mondo dei CRM. Abbiamo realizzato anche applicazioni specifiche per forza vendite, distributtori, rivenditori, quindi piattaforme per il business to business. Il business to business è un mondo un po' a sé, l'ordine che fa un rivenditore deve essere rapido, istantaneo, non avere i fronzoli di una web interface tipica da customer. Poi ci siamo guardati attorno, abbiamo cercato anche applicazioni per la piccola impresa, per la piccola e media impresa che ha bisogno di partire velocemente e non avere costi di start-up. Abbiamo trovato gesto online per questo, non ha costi di formazione, è un prodotto immediatamente fruibile dall'azienda e integrato anch'esso con l'e-commerce. Per quanto riguarda la sicurezza è importante la sinergia che Centrenet ha con Server Lab. Quando si creano applicazioni esposte al web devono essere sicure, affidabili. Ci affidiamo a Server Lab per questa importante parte che riguarda appunto la security informatica. Grazie per aver ascoltato la storia di Centrenet. Stai su questo canale, ti racconteremo altre storie riguardanti il mondo dell'applicazione, applicazioni belle e piacevoli da usare. Ciao!